Poco meno di tre settimane, tanto si è dovuto aspettare dal 10 ottobre per vedere il testo del decreto scuola pubblicato nella gazzetta ufficiale. Il provvedimento contiene misure significative attese da tempo, la più importante è certamente quella che consentirà al MIUR di bandire concorsi ordinari e straordinari per assumere complessivamente 48.000 docenti. Per dirigenti scolastici e personale ATA non sarà più necessario il controllo della presenza mediante la rilevazione delle impronte digitali. Gli idonei delle graduatorie di merito dei concorsi 2016-2018 potranno chiedere di essere assunti in un'altra regione con disponibilità di cattedre. Il bonus merito non verrà cancellato ma potrà essere attribuito anche ai docenti precari. Il decreto introduce anche alcune importanti novità in fatto di reclutamento dei dirigenti scolastici e autorizza il Ministero a bandire un concorso per assumere 59 dirigenti tecnici. Due le principali modifiche rispetto al testo originario, quello approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 ottobre. La prima riguarda i requisiti per accedere al concorso straordinario. Potranno partecipare anche i docenti con tre anni di servizio nella paritaria ma solo per poter conseguire l'abilitazione. La seconda modifica riguarda il concorso riservato per i DSGA al quale si potrà prendere parte solamente avendo conseguito la laurea. A proposito delle modifiche apportate al testo approvato dal governo il 10 ottobre c'è già chi fa osservare una anomalia. Il testo è stato pubblicato in gazzetta senza un secondo passaggio in Consiglio dei Ministri, passaggio doveroso in considerazione della rilevanza delle modifiche stesse. Per parte loro i sindacati si dichiarano ampiamente insoddisfatti e protestano per il fatto che il decreto sia stato modificato senza tenere conto degli accordi già raggiunti ad aprile e ribaditi il primo ottobre scorso. Il decreto porta il numero 126. Nelle prossime ore verrà trasmesso alle Camere per la conversione in legge che dovrà essere perfezionata entro 60 giorni e cioè non oltre il 29 dicembre prossimo. Stando alle prime notizie il decreto dovrebbe iniziare il proprio iter alla Camera. Ai primi di novembre verrà avviato l'esame in commissione e il 25 novembre dovrebbe esserci il dibattito in aula. A inizio di dicembre si passerà poi al Senato. L'opposizione sta già affilando le armi. Il dibattito parlamentare sarà certamente molto vivace e potrebbe riservare anche qualche colpo di scena. Su questo tema continueremo a tenervi informati sia su questo canale sia nel nostro sito www.tecnica della scuola quindi vi invitiamo a seguirci ma soprattutto a scriverci a mandarci i vostri commenti e le vostre osservazioni. Grazie. 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 Grazie.